Musica ... Il quadro di San Damura, il quadro di Salah è la che vincita via il numero uno, posto di situazione dei direttori di cara. Quartifis, si parla, se questo ritirà il cambio. Il cano lanci lungo, Sergio Gilfona anticipa bene il numero sui punti su mille. Grazie a tutti. E' con Albano. Ha sediato! Con lui l'abbiamo! La infogioco lo evita Scaringella, bello l'1-2, Scaringella con Albano, Scaringella, Scaringella, Scaringella! Miracolo di Carulli! Numero 14 Zaccaro. Girfone dentro, fallo al veleno di Girfone, Cartano! L'amorosa fa la gol per il Gravina, per il raddoppio! Con la Scaringella, per Giffone, tutto da rifare, Giffone, Giffone, capa dentro, chiude Grittani, Grittani! Traverso di Grittani! E' allontana Liso! Altrac, l'amorosa fa la gol per il Gravina, stavolta si! Cilindiello, rimette un giro per Rizzi! Di Bari! Gerrone! Scaringella, ancora per Giffone, Giffone dentro per Diego Albano! Albano per Scaringella, 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 Scaringella! Traverso di Scaringella! Fio, grande, fa la gol per Ruttiglianese! Tiene la sfera, chiedono addirittura la rete! Girfone, tiene la palla in campo, deve saltare Zaccaro, trovo difettoso, Girfone va via, c'è Cardano libero sulla destra, Girfone non serve, Girfone porta a mano, qui sono andata in campo, è andata in fondo, è una palla in campo, è la palla in fondo, è una palla in campo! Sentiutto ci sono Anagio! Settiamo dal palo, diceva, con il Germone e Giovan, con il Giovan! Questa è un'altra parte. Capone, l'esterno siciliano, ancora Casareale, ottimo il suo resistente, Casareale dentro, ancora Casareale, Gippone! Capone, l'esterno siciliano, ancora Casareale, l'esterno siciliano!